Prima di tutto come è andato il tour Lucano che si sta per concludere perché si inizia l'ultima tappa? È andato molto bene e devo dire che con Pina si riesce a coinvolgere anche quelle realtà imprenditoriali che eroicamente continuano a fare impresa e di conseguenza rappresentare una delle eccellenze del nostro meridione. Cosa in particolare l'ha colpita? L'entusiasmo di un'azienda di Nicola, di due fratelli che dopo essere stati all'estero sono ritornati qui e hanno messo la loro esperienza a servizio del territorio e questo naturalmente è proprio il modello da utilizzare. Veniamo alla grande coalizione perché 19 simboli non sono ovviamente pochi, sono tante anime diverse anche rispetto alle prospettive politiche. Come è stato metterle insieme? Sarà poi difficile eventualmente, se si supera la soglia, tenerle insieme? È stato semplice perché noi abbiamo lanciato il 2 di marzo un appello dalla nostra Assemblea di Sud chiama Nord di Taormina, comune denominatore Mene Europa più Italia più Equità più Sovranità più Federalismo. Questo ha portato a un'aggregazione che il 6 di aprile nel giro di un mese abbiamo presentato con grande semplicità. Siamo stati riconosciuti come i federatori di questo progetto e il progetto andrà avanti e questo ovviamente non solo perché si supererà ampiamente il 4% ma perché di libertà in Italia ce n'è proprio necessità. A proposito, è uno dei punti del vostro programma, a proposito di federalismo, per parlare di qualcosa che è a livelli un po' più bassi, non europei ma nazionali e regionali, cosa pensa dell'autonomia differenziata? Penso che è una supercazzola che non serve né al Nord né al Sud. Bisogna invece modificare la forma di Stato, quindi una confederazione a tutti gli effetti e consentire a regioni come la Basilicata, che hanno risorse energetiche importanti e che rappresentano anche una percentuale elevata di quella che è la produzione in Italia, vengono messe nelle condizioni di poter riscuotere direttamente le imposte e dare una quota allo Stato, quindi invertiamo le parti. Il futuro, rispetto a quello che ho appena detto, in base a quello che c'è anche in Basilicata, il futuro è ancora nel fossile oppure si può superare nel giro di poco tempo? E se sì, in che modo? Qual è la prospettiva? Non si supererà perché non ci sono le condizioni per un totale fabbisogno, ma sicuramente ci può essere un mix che comunque non deve puntare a colpire quelle che sono attività economiche e soprattutto anche certe tradizioni. Noi abbiamo visto che c'è stata la sommossa degli agricoltori perché sull'altare di quella che è una strategia ambientale si è puntato anche a scardinare un rapporto tra superficie terriera e permanenza di animali solo perché qualcuno sostiene in Europa che gli animali inquinano più di altri fattori. E' ovvio che sull'altare dell'ambiente non si può arrivare a rendere ancora di più l'Italia un mercato di consumo e ad ammazzare la produzione. Ci sono gli allevamenti intensivi però che rappresentano un problema, non solo da un punto di vista ambientale. Noi siamo contrari ad avere per esempio maiali a segambe e quindi quelle che in ogni caso, l'OGM e le altre tematiche possiamo anche considerarle in termini difensivi se bisogna fare delle modifiche che riguardano anche la difesa rispetto a certi parassiti che un tempo non c'erano. Certamente non siamo per le modifiche animali e quindi ad avere uno sprottamento che da questo punto di vista è solo speculativo ed è ovvio che siamo contrari alle farine di grilli e siamo anche contrari all'industria delle carni sintetiche. Ed era la successiva domanda, delle carni coltivate più che sintetiche. Un'ultima domanda, euro sì o no? Tra i 19 c'è anche Italia Exit che ricordo insomma parlava di questo, l'uscita dall'euro. Io dico sempre l'Italia in Europa è come quello che è incaprettato più tira più si soffoca il tema oggi non è semplicemente l'euro è uno stato malato che ogni anno che passa produce sempre più debiti e aumenta il divario tra sud e nord e ha più ricchi da un lato e più poveri dall'altro quindi questo non è causa dell'euro è causa di un sistema centralistico che va spezzato e modificato ovviamente il tema dell'euro riguarda la sovranità e anche quello che in ogni caso è stata una scelta per la quale l'Italia sicuramente non era pronta siamo lo stato più indebitato ed ovviamente ne stiamo pagando le maggiori conseguenze.